Ehi, ehi, un momentino... Ehi, cacchio, vai più piano, cavolo, te l'ho già detto! E che cavolo! Guarda qui, mi hai rovinato la macchina, ok? È la prima volta che te la faccio usare e già mi hai rotto il vetro. Adesso paghi tu! Mi sono rotto le scatole che ogni volta ti faccio usare le mie cose e tu le rovini così. Comunque, adesso sono qua dentro, non so più come uscire. Infatti volevo chiedere ai nostri amici a casa. Tanta guagna per tutti, ragazzi. Siete sintonizzati con Mr. Rock e scusate se mi sono scaldato un pochettino. Però il nostro amico, qui di fianco, non è capace di guidare. Quindi io non so cosa dirgli. Sto cercando di insegnargli tutto, ma niente. Cosa volevo dirvi, ragazzi? Voglio riprendere mano a GTA. Quindi, prima cosa, voglio fare qualcosa con voi. Ricordatevi che abbiamo la nostra nuova crew che si chiama Guagna Official Crew. Spero di averlo detto bene. Sì, è questa qui. Quindi rimanete nei prossimi giorni attivi sulla nostra crew. Chiedete e commentate qua sotto se volete partecipare alle nostre sessioni. Perché ho in mente di fare un po' di attività. Vi volevo chiedere un consiglio. Cosa preferite tra gare, attività, rapine oppure cazzeggio in giro su GTA? Ho intenzione di riprenderlo e da un po' che non ci sto più dietro. E infatti il tizio qui si sta incazzando un po' troppo. Quindi, ragazzi, non fatemi fare brutta figura con lui. Cioè, non voi. Perché so che voi mi fate fare sempre bella figura. Più che altro, lui ha il grilletto facile. Quindi, non vorrei avere qualche problemino con lui. A parte questo, vorrei anche fare un let's play di un altro gioco. Sì, non lo so. In questo momento va di moda fare giochi tipo Life is Strange. Non lo so. Voi siete bravissimi. Proponetemi voi cosa volete vedere. Un po' quando facevo in stile Until Dawn. Detto ciò, ragazzi. Io vi ho detto tutto. Mi raccomando. Andate su il mio Instagram e l'Instagram degli altri ragazzi. Che vi ricordo sono Ferryx, Frank, Black, Mischio. Quindi, mi raccomando. Andate subito a vedere che cosa facciamo noi di solito. Che dire. Oltre questo, andate a visitare il nostro sito www.wine.it. Io vi ho detto tutto. Qui da Mr. Rock è tutto, ragazzi. Ci vediamo in un prossimo video e... Ragazzo mio. Sei pronto a guidare? Mi raccomando, questa volta non mi far fare brutta figura. Dai. Schiaccia la frizione e andiamo avanti. Su. Attenso. Ok. C'è un vecchietto. No, non lo tirare sotto. No. No. No.